Una settimana in cui il Centro Storico di Monte San Savino fa un tuffo nel passato e si anima, è pronto ad accogliere visitatori e turisti? Sì, è un motivo d'orgoglio e soddisfazione per noi. Questo è un evento che ormai sta caratterizzando Monte San Savino. La notte del Conte Baldovino ormai è un evento che viene conosciuto non soltanto nei nostri confini ma oltre. L'amministrazione comunale cerca nel miglior modo possibile di venire incontro alle esigenze sia della Proloco che dei quattro quartieri. E voglio già anticipare che noi il 4 di luglio, quindi subito dopo, andremo a inaugurare la nuova sede che proprio l'amministrazione ha predisposto per il comitato dei quartieri e per la Proloco. Quindi è anche un motivo di attenzione che noi dimostriamo con i fatti e poi mi auguro che anche quest'anno ci sia tantissima gente, ci sia tantissima partecipazione, soprattutto dei giovani qui a Monte San Savino, dei nostri ragazzi, come diciamo. Anche questa è una forma di volontariato per mantenere vive le tradizioni e per tenere animato il Centro Storico e attirare appunto i visitatori. Quindi onore al merito a chi si dà da fare. Sì, infatti va un ringraziamento forte sentito verso la Proloco che da anni porta avanti questa tradizione, ma anche un ringraziamento ai capitani e ai quartieri stessi che riescono a fare non soltanto l'evento ma riescono anche a fare aggregazione soprattutto giovanile. E quando vediamo che i nostri ragazzi stanno tutti insieme e partecipano anche se in un confronto perché poi è anche una sfida, è sempre un qualcosa di particolarmente positivo.